Ehi, non me la dai! L'acciamo! Ciao Gianluca! Ma mica mancia! Ci sono i favoriti eh! C'è la colazione! Buongiorno eh! Senta! Ma guarda, picca picca! C'è per usare il mercadolo di me giù! Giuseppe, buongiorno eh! A posto? Allora, siamo pronti per questa altra ventura! Penombra! A posta, siamo pronti! Andina, morrite la posta! Stanotte ha vinto di nuovo la Marta eh! Ehi, abbattuto al banco eh! Ehi, non dire mal parole eh! Ah, stai riprendendo, bene bene! La Marta gioca alla notte eh! Ehi, al primo giro può manda a fa culo! Buongiorno! Lo faccio a ciombo alla notte! Ehi, la Marta! BOOM! A papà ne ti fai, lascia la mamma mia! Ehi, come mette la mano sopra l'Emanuela? Facce, papà ne lascia la mamma mia! Pugni! Pugni! Ehi, dappi a far la gara! Lascia la mamma a scoprire! Ehi, campione! Sì! Pronti? Via! Eh, quella super leggera eh! Pugni! 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 Ehi! Pugni!